Al mercato della terra e della biodiversità qui a San Giorgio, non soltanto produttori d'eccellenze, ma anche eccellenze in campo artistico. Di fatti prosegue la collaborazione con la Corale 4 Stagioni, che anche in questa edizione metterà in scena uno spettacolo veramente di rilievo. Ne parliamo con Cristian Harri. Sì, grazie. Come diceva, questo è il quinto anno che noi partecipiamo alla fiera per dare il nostro contributo a tema della fiera stessa. Quest'anno il titolo è La Cascina Incantata, indigeno solidale, ovvero questo spettacolo è il proseguimento di quello che era iniziato l'anno scorso nel Vecchio West. I protagonisti vengono in Italia, decidono di stabilirsi in Italia portando i loro prodotti e le loro vite, comprando una cascina, ristrutturandola e mettendola a disposizione di molte persone che arrivano non soltanto dal circondario, ma anche proprio dai posti più diversi. Questa atmosfera fiabesca che si viene a creare verrà poi disturbata da un orco cattivo che attraverso un incantesimo distruggerà praticamente tutte le buone intenzioni, ma ci sarà un lieto fine, ma questo non ve lo racconto proprio perché dovrete venire a sentirlo, a vederlo. Quindi vi aspettiamo alle tre e mezza, ovvero 15.30, in Piazza Ippolito San Giorgio, dove già la cascina emerge da ieri. Vi invitiamo veramente con il cuore per vedere noi, ma anche per partecipare a tutta la fiera. Quindi vi aspettiamo, corrette numerose, San Giorgio Canavese.